Dato che oggi, 14 marzo, è il compleanno di Jin, io direi di fare una piccola analisi su questo personaggio che, spoiler, è il mio preferito in gioco e lo è stato fin dal day one quando ho visto che era nella lista dei personaggi del banner standard e avevo visto la sua Collected Miscellany, insomma, quel video di tutorial dove c'è Dynesliff che descrive il personaggio, mi sono detto wow, voglio averla in gioco perché, per diversi motivi, uno su tutti mi piace ovviamente il design, anche se questa è la sua skin nuova in origine, aveva questa qui che non era niente male, assolutamente molto bella, anche la sua skin di default che poi hanno cambiato per evitare censure e tutto il resto. E poi mi piace per un semplice fatto, ovvero che questo personaggio ha dei talenti molto particolari, uno su tutti è che scala con attacco quando deve curare, quindi più fai danno più fai cure, fantastico, e praticamente quando vai a fare i suoi attacchi normali ha un 50% di curare tutti i personaggi nel party. Quindi quando sei ad Adventure Rank Bassino e ancora devi imparare come funzionano un pochino tutte le meccaniche del gioco, gestire l'energia, fare le varie abilità, rotazioni, build e tutto il resto, avere un personaggio che ti può curare tutti quanti senza fare nulla, cioè solamente facendo attacchi normali, wow, cioè è strautile, infatti a me ha cariato per diversi mesi. Ora, ovviamente non è il personaggio più meta di questo mondo, perché ci sono personaggi animo che possono fare molto meglio che tutto quello che fa lei, sia per quanto riguarda il danno, support, applicazione di animo e svariate altre cose, anche per le cure, però a me è rimasto, rimane uno dei miei personaggi preferiti, assolutamente. E sì, le ho dato l'arma di IH per il semplice fatto che a me piace la Miss Splitter, mi piace proprio il design dell'arma, e in teoria avrei dovuto dare a Jean qualcosa tipo la Faster in Desire, o una semplice Amenoma, o anche, che ne so, una spada Favonius, che tra l'altro su di lei ci sta benissimo a livello estetico, nulla da dire. Ho anche una premolda Jade Cutter, ci sono tantissime persone che autorizzano una premolda Jade Cutter, ma la mia spada preferita è la Miss Splitter, e la do a lei, solamente per fare più danno elementale. E sì, volendoci anche Cici, che lei funziona in modo simile a Jean, però ti posso dire la verità, a me Cici non è mai piaciuta così tanto, mentre invece Jean mi piace proprio il fatto che lei sia un personaggio molto più regale, se così la vogliamo chiamare, all'interno del gioco, e abbia uno stile tutto suo. Poi ha un'importanza non da poco. A livello narrativo, che è ovviamente il gran maestro protempore dei Cavaliere di Favonius, quindi è la leader di una nazione, la mia nazione preferita, ovvero Monster, e quindi, insomma, si porta dietro anche un bel po' di parti, di trama e tutto il resto. Detto questo, vogliamo parlare un altro po' del suo kit, direi proprio di sì, perché la sua elemental skill è fantastica, fa un botto di danni, assolutamente, è molto utile per fare crowd control, e ti aiuta benissimo quando devi fare quegli eventi tipo il Tether Mechanics, ovvero dove tu non fai danni ai nemici, ma ti basta posizionarli con delle abilità e tutto il resto verso le torrette per fargli subire del danno, o letteralmente buttarli giù da tutti quei ponti che ci sono in quei piccoli domain, quindi veramente molto utile, è la sua elemental burst, perfetta, perché fa un botto di danno, fa tantissime cure, e nello specifico burst cure, quindi ti va a curare tutti in una volta, e scala ovviamente con l'attacco, e per darvi un'idea, se avete una Jean buildata bene, vi può curare di minimo, minimo, 30k, appunto, di HP. Quindi a un personaggio come Zhongli, a un personaggio come Hu Tao, va a ripristinare una roba come l'80-90% degli HP, quindi, wow, fantastico, assolutamente. Oltre al fatto che se poi avete qualche costellazione del personaggio, tutto questo è ancora più utile, perché con la C1 aumentiamo il danno della sua elemental skill, di ben 40%, quindi fantastico. Basta tenerla premuta per un secondo e poi si può fare. Con la C2, invece, aumentiamo la velocità di attacco di tutti i membri del gruppo. Ottimo, anzi, velocità di movimento e di attacco, quindi veramente molto utile. Ora, non è che un 15% ci cambia la vita, però se a questo lo vai a sfruttare, che sono in qualche sfida a tempo, o ci vai a raggiungere altri talenti che aumentano sempre la velocità di movimento e di attacco, può essere una risorsa non da poco. E poi ci sono le altre costellazioni che ancora non ho sbloccato. Una su tutte è la C4, che ne parlo ormai da una vita, che vorrei tanto avere, perché la C4 è l'utility per eccellenza per aumentare il danno animo che c'è in gioco, ancora di più rispetto a Farusan, perché praticamente per tutti i personaggi, o meglio i nemici, che sono all'interno della barse di Jin, va a ridurre la resistenza all'animo di un ben 40%, quindi ottimo. Per darvi un'idea, Farusan si ferma al 30%, ora non è che tra 30 e 40% ci sia tutto sto cambiamento, però in questo caso, se andiamo a vedere appunto solamente i valori singoli, la signorina Jin è al top. Poi certo, ci deve arrivare a 4 costellazioni, io non ci sono ancora arrivato, però è veramente ottimo. E poi con l'ultima costellazione, ci va essenzialmente a ridurre i danni subiti del 35% per i personaggi che sono all'interno della sua burst, quindi anche questa è un'utility non da poco, e questo effetto dura per 3 attacchi o 10 secondi. Quindi, secondo me, un'ottima utility, magari non la utilizzeremo tantissimo, anche perché, ripeto, ormai, soprattutto per chi è in endgame, ci sono talmente tanti modi per evitare di subire del danno che aggiungere un'utility di questo tipo forse non è così tanto utile. Però, ripeto, la C4 rimane veramente una di quelle cose che per il lungo termine, ovvero continuare a giocare per diversi mesi e anni, può essere un obiettivo da cercare da raggiungere se vogliamo utilizzarla con personaggi tipo Xiao o Scaramouche. Si può buildare questo personaggio in diversi modi, vi faccio vedere una build molto, molto semplice, ovvero con attacco percentuale, bonus danno d'animo e crit rate, crit damage che sia, e questa, insomma, è una delle più classiche, la vorrei definire, perché ti permette di fare abbastanza danni con la sua elemental burst. Ora, ovviamente, se andiamo a vedere gli artefatti, ora, quale ho dato un gradietero e un very decent. Mentre invece, se invece vogliamo puntare a un qualcosa di molto più particolare e, devo dire, molto divertente da giocare, possiamo utilizzare una gin full elemental mastery, che, ok, non ci andrà a curare di tantissimo, però se la sfruttiamo con un quattro pezzi del viridescente e la mettiamo in un team con Bennett, che cosa succede? Andiamo a fare swirl su Pyro praticamente ogni secondo. E questo tipo di team si chiama in inglese Sunfire Gin, che vi assicuro è stradivertente da giocare, però, appunto, bisogna birrarla bene, cioè devi trovare dei pezzi con Energy Recharge, altre elemental mastery o attacco percentuale che sia, per fare una build di questo tipo. E poi, oltre a questo, ripeto, è un personaggio che, volendo, si può anche buildare nel peggior modo possibile, se così dobbiamo definire, ma, secondo me, non è proprio esatto questa definizione, perché, dato che è un personaggio che scala con attacco percentuale, volendo possiamo darle attacco percentuale, attacco percentuale e attacco percentuale. E, oltre a questo, possiamo anche dare due pezzi Gradator, due pezzi Shimenawa e chi se ne frega. In una build di questo tipo, faremo, ovviamente, un po' più di danni, ma, oltre a questo, farà anche delle ottime cure, quindi, veramente molto utile, anche perché, poi, in tutto ciò, non l'ho detto, ma è uno di quei personaggi che va a scalare con il healing bonus, ovvero bonus di guarigione, quindi, anche questo ti va ad aumentare le sue cure. Ora, sinceramente, non ho visto se la si può giocare con altri artefatti, come questo qua del Mullusco Oceanico, ma, credo che, probabilmente, potrebbe anche avere un senso, però, capito, cioè, volendo, si può dare questa buildup, possiamo anche utilizzare la Made in Beloved, ovvero l'amata fanciulla, che potrebbe essere anche quella un'alternativa interessante, però, capito, cioè, è uno di quei personaggi dove veramente basta poco per renderla funzionale. E, una volta che un personaggio è funzionale, è molto utile in tantissimi aspetti, assolutamente. Io mi ricordo, per esempio, che all'inizio le avevo dato una Made in Beloved, anche perché, quando provi a fermare un artefatto, trovi sempre quello che non ti interessa. Io ho trovato una marea di questa amata fanciulla e l'ho notata su di lei, e, Dio mio, ogni volta che lo utilizzavo nello Splat Abyss, premevo triangolo dal controller, boom, tutti full vita. Era veramente un jolly da giocare all'interno del team. E quindi, ripeto, è assolutamente un bel personaggio. Ora, ripeto, lo potete trovare solamente nello standard. Abbiamo anche parlato di come, praticamente, è un pochino più difficile da ottenere ora che ci sono più personaggi nello standard. Però, ripeto, se dovesse capitarvi, è assolutamente un personaggio stra-iper-mega consigliato e rimane, per me, il mio preferito in assoluto. Sì, volendo si può fare anche con un Noblesse, perché il Noblesse è uno di quei set che è un jolly. Dove lo piazzi, piazza un minimo di utilità, soprattutto se hai un personaggio che può utilizzare la sua elemental burst. Però, devo dirti la verità, non l'ho mai provata con questo tipo di set, direi. Anche perché, solitamente, mi sono sempre abituato a farla sub-dps-support o qualcosa del genere. Quindi, insomma, anche perché, non l'ho detto, ma volendo si può fare, Jhin, con un altro tipo di build che vi faccio vedere al volo, ovvero, una Jhin sub-dps fisica, ma questo tipo di build si può fare solamente, e ripeto, solamente, se avete l'Aquila Favonia. Perché l'Aquila Favonia? Perché, ovviamente, questa è un'arma che ha un buon attacco base, quindi, ti aiuta anche questo, e, oltre a questo, ha come statistica secondaria il fatto di avere danni fisici, e ha un talento che praticamente ti rende il personaggio tank, nel senso che il primo danno che vai a subire in 20 secondi, 15 secondi, non mi ricordo ogni quanto, ti va a tankare tutto quel danno per fare, per recuperare il danno che hai subito. Quindi, ottimo, fantastico, oltre al fatto che questo talento ti permette di fare danno anche sul nemico, e quindi, dare questa spada sul Jhin rende una sub DPS fisica non da poco. Poi, ripeto, non faremo chissà quali milionati di danno, però è una cosa al quale si può cercare di investire, se vi può interessare questo tipo di build, anche se, se andiamo a vedere il meta, l'Aquila Favonia solitamente la si dà a Bennett, proprio perché è un'arma che ha un attacco base molto alto, quindi, è ottima su di lui, e, oltre a questo, ti permette di avere un support che è anche un mini tank, e quindi, anche questo è molto utile da utilizzare uno spar d'abisso o diverse altre cose. Detto questo, gente, Jhin, best personaggio di Genshin, a parere mio, molto utile, forse il miglior personaggio del banner standard, dipende da come la vogliamo vedere, e se vi capita, datele un'occhiata, perché, è veramente molto bella, ha una bella trama, si gioca tranquillissimamente, anche a livello di build, e, quando lo utilizziamo all'interno di un party, o meglio, all'interno di un team, beh, il suolo fa, ha una buona utility, e non vedo perché non utilizzarla. di un'occhiata, Grazie a tutti.